Nasce anche a Catania Confcommercio Professioni, la struttura organizzativa che riunisce da voce unitaria le associazioni professionali del sistema confederale, figure etereogenee tra loro che possono avere un ruolo importante per la crescita del territorio, dal mondo dello sport a quello delle professioni ordinistiche, passando per quello della formazione e dei management della logistica e dell'organizzazione di eventi. Confcommercio Professioni sarà un'occasione per fare network e accompagnare le nuove generazioni verso la scelta di professioni autonome che possano contribuire alla crescita del mercato e favorire nuova occupazione. Innanzitutto colmiamo un vuoto, in questa città, nella nostra regione, nel nostro territorio, la voce degli imprenditori professionali è spesso frazionata o non ascoltata, addirittura in alcuni casi assenti. Allora come Confcommercio abbiamo sentito l'esigenza di riunirli in un unicum dove ci sono professioni diversissime, ma tutte persone che comunque possono avere un ruolo importante per la crescita del territorio. Assieme alle organizzazioni classiche, quelle delle imprese commerciali, turistiche e tante altre che aderiscono al nostro sistema, porteremo avanti una voce unitaria di quelli che fra virgolette sono professionisti o imprenditori che hanno interessi comuni per la crescita della città. Confcommercio Professioni si apre al territorio, è una grande opportunità per fare rete tra i professionisti del terziario di mercato e anche delle professioni ordinistiche. È un'occasione per dare anche un contributo al territorio sui temi importanti della città sotto la guida, il supporto e la visione di Confcommercio Catania. Un'occasione per fare rete, per fare network e accompagnare anche le giovani generazioni verso la scelta di professioni autonome che possono contribuire alla crescita del mercato e favorire nuova occupazione. Grazie.